Dopo la grande depressione economica scaturita dall'emergenza sanitaria, il prossimo primo luglio partiranno i saldi estivi in Sicilia. A pochi giorni dall'avvio delle scontistiche, Feder Consumatori Palermo ha monitorato le intenzioni di acquisto dei consumatori, ma ha anche controllato come si stanno adeguando i negozianti alla prova dei capi d'abbigliamento. Il 73,8% dei negozianti infatti li fa provare, solo in pochi casi con alcune limitazioni. Altre catene di negozi invece vietano la prova capi, ma con la possibilità per il cliente di restituire o tenere il bene entro 45 giorni dall'acquisto. Secondo dati Istat, le stime effettuate con i dati raccolti a giugno 2020 indicano un miglioramento rispetto al mese di maggio sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 94,3 a 100,6, sia dell'indice del clima di fiducia delle imprese da 52,7 a 65,4. Dopo la grande depressione da Covid e tre mesi e mezzo di azzeramento dei consumi, tranne per il settore alimentare, i dati Istat con l'approssimarsi della partenza dei saldi potrebbero rappresentare timidi segnati per la ripresa del potere di acquisto delle famiglie e dei consumi in generale, commenta Lillo Vizzini. Impossibile però fare previsioni sull'andamento dei prossimi saldi estivi. Saranno fortemente condizionati da tanti lavoratori che hanno perso il lavoro o che aspettano ancora la cassa integrazione, in pratica dall'impoverimento di tantissime famiglie. La regione Sicilia farà ancora una volta la battistrada, partendo con i saldi già il prossimo 1 luglio. In ogni caso, tra sms, telefonate e mail ai clienti, le vendite a saldo con sconti anche fino al 40% sono iniziate da tempo, i negozianti hanno quasi tutta la merce dentro e sono in crisi di liquidità.